L'Antartide è stato un continente avvolto nel mistero per molti anni. Allo stato attuale non si sa ancora molto su questa massa di ghiaccio, e il suo passato è altrettanto confuso, quanto il suo presente. Nel corso degli anni abbiamo sentito molte voci e teorie su ciò che potrebbe essere accaduto sul continente molti anni fa. Abbiamo sentito di tutto, dalle storie di una civiltà perduta, alle teorie di un bunker nazista segreto della Seconda Guerra Mondiale. Oggi daremo un'occhiata ad alcune di queste teorie selvagge, e capiremo se c'è qualche verità dietro di loro. Fateci sapere nei commenti una delle teorie di cospirazione più folli che abbiate mai sentito. Chi lo sa? Forse una di queste teorie diventerà un video futuro. La città perduta L'evidenza scientifica ha fornito prove quasi inconfutabili che l'Antartide una volta era in gran parte, o forse completamente senza ghiaccio. Circa 90 milioni di anni fa, durante il periodo Cretaceo, quando la Terra stava diventando molto più calda, il continente meridionale sembra aver ospitato una densa e folta vegetazione, che si era adattata a sopravvivere fino a quattro mesi di buio continuo. Considerando che la maggior parte delle piante, al giorno d'oggi, non può sopravvivere senza la luce solare di tutti i giorni, questa è stata davvero una rivelazione per i ricercatori scientifici. Ma l'idea che gli esseri umani preistorici abbiano mai abitato l'Antartide è quasi irrealistica, poiché sembra che il continente sia stato quasi sempre coperto di ghiaccio, almeno finché gli esseri umani hanno vagato sulla Terra. È certamente possibile che alcuni animali preistorici abbiano vissuto qui, ma è quasi garantito che l'uomo non abbia mai messo piede sul continente fino ad anni più recenti. Una delle teorie più popolari conosciuta dai teorici della cospirazione come Teoria del Crostaceo sostiene che alcune parti dell'Antartide erano completamente libere dal ghiaccio, già 12.000 anni fa, e che gli esseri umani potrebbero aver vissuto lì prima di estinguersi alla fine dell'ultima era glaciale. Infatti le foto scattate durante una missione della NASA nel 2016 mostrano le rovine di quella che si crede essere un'antica città. C'è anche una prova video che è stata presumibilmente catturata da un team di ricercatori nel 2002, che mostra i resti di un presunto insediamento umano preistorico. Ma non è detto che questo video sia autentico. Infatti alcune persone si chiedono se la truppe sia mai esistita, o se il video possa essere stato semplicemente una sorta di progetto artistico, o una bufala. Ancora più strano è che un'altra teoria sostiene che la leggenda della città perduta di Atlantide ha avuto origine in Antartide. La verità è che il mondo potrebbe non saperlo mai. Base 22 A parte la credenza e la voce che un'antica città perduta sia esistita in Antartide, alcune persone credono che il continente abbia ospitato una volta una base nazista top secret, che avrebbe avuto le dimensioni di una piccola città, chiamata semplicemente Base 22. Un nuovo a Berlino. La presunta fortezza si dice che sia stata usata non solo dai nazisti, ma anche dagli illuminati. La leggenda sostiene che i nazisti erano eccessivamente ossessionati dall'occulto. Sappiamo che i nazisti avevano molte basi segrete come piano di fuga d'emergenza, nel caso in cui il loro regime andasse a rotoli, cosa che fortunatamente è avvenuta. Una di queste basi è stata recentemente trovata in una giungla argentina nel 2016. Durante la seconda guerra mondiale ci fu una gara tra i diversi paesi, per rivendicare la terra in Antartide, e presumibilmente i tedeschi rivendicarono una parte del continente come territorio tedesco. Inviando una squadra di spedizione a mappare la zona, scoprirono un lago geotermico, dove presumibilmente stabilirono la loro base per condurre esperimenti segreti. Un'altra diceria si spinge addirittura a sostenere che i nazisti si imbatterono in una tecnologia aliena e in qualche modo entrarono in contatto con gli alieni poco dopo. La teoria sostiene che i tedeschi volevano fare ricerche approfondite su questa tecnologia e potenzialmente creare versioni reali degli UFO che erano stati visti nei cieli per decenni prima di allora. Non sappiamo se tutto questo sia vero, ma è certamente spaventoso pensarci. Montagne Gambursev Nel 2010, gli scienziati russi hanno rivelato l'esistenza di una massiccia catena montuosa nascosta sotto il ghiaccio di una zona orientale dell'Antartide. Le montagne Gambursev sono ritenute alte più di 2400 metri e sono sepolte nella parte orientale del continente sotto uno spesso strato di ghiaccio che si estende per più di 1,6 chilometri in profondità. Le immagini recentemente aggiornate hanno mostrato un paesaggio drammatico e roccioso con profonde valli fluviali e laghi che scorrono. Uno strato di ghiaccio di 6 milioni di chilometri quadrati chiamato Instant Arctic Ice copre la catena montuosa. Gli scienziati si sono chiesti come le montagne sono nate e si stanno avvicinando sempre di più a capire veramente questo strano evento. Le montagne hanno una struttura simile a quella delle Alpi il che suggerisce che sono relativamente antiche. I ricercatori hanno scoperto anomalie magnetiche simili a quelle trovate nelle rocce vicine che hanno miliardi di anni il che significa che le origini delle montagne risalgono all'incirca allo stesso periodo in cui i continenti e subcontinenti si sarebbero scontrati milioni di anni fa. Per farla breve queste montagne sono incredibilmente vecchie Piramidi Nel 2016 le immagini di montagne a forma di piramidi nel mezzo dell'Artico sono diventate virali. Molti sostenevano che queste strutture sembravano fatte dall'uomo e potevano essere la prova di un'antica civiltà che viveva in Antartide. Le strutture sono state trovate nell'Esworth Range in Antartide e hanno portato alla rapida diffusione di voci che un'antica civiltà ha costruito le strutture più di cento milioni di anni fa molto prima che i nostri primi antenati umani apparissero sulla Terra. Le immagini delle montagne possono essere viste a forma di piramide su Google Earth. Non sono certo un segreto anche se non abbiamo idea da dove possano provenire. Vale la pena notare che queste presunte piramidi fatte dall'uomo hanno come minimo 4.000 anni e circa 10 volte l'altezza delle piramidi di Giza. Tuttavia gli scienziati insistono che queste presunte piramidi non sono state create da antichi esseri umani o da qualsiasi altra forma di antica civiltà. Invece il parere ufficiale è che si siano formate naturalmente nel corso di migliaia forse milioni di anni. Non sappiamo esattamente cosa abbia fatto sì che prendessero la forma di una piramide ma per quanto ne sappiamo non ci sono prove concrete che siano state create a mano. Polinia Antartica Nel settembre del 2017 i ricercatori hanno fatto una strana scoperta che hanno chiamato Maudris Polinia sepolta in profondità in un blocco di ghiaccio nel mare di Lazarev in Antartide. Ma cos'è esattamente una polinia? Secondo i ricercatori una polinia è una pozza di liquido di acqua di un oceano che si trova in profondità all'interno di uno spesso strato di ghiaccio. Gli esperti si sono basati su osservazioni satellitari e su una rianalisi dei dati precedenti per scoprire come e perché il buco si è formato. Era stato un mistero per i ricercatori per più di 40 anni ma ora hanno scoperto che una combinazione di cicloni e venti forti ha causato la formazione della polinia spostando i flussi d'acqua in direzioni opposte strofinandoli l'uno con l'altro e mantenendoli abbastanza caldi da non congelare. La polinia di Maudris è incredibilmente grande con alcuni esperti che sostengono che è grande come il Connecticut e si è espansa di un enorme 740% il mese successivo prima di fondersi finalmente con l'oceano aperto e scomparire. Il ghiaccio del giorno del giudizio All'inizio di quest'anno gli scienziati appostati sul ghiacciaio Twites dell'Antartide che copre un'area delle dimensioni della Florida hanno rilasciato le immagini della linea di base del ghiaccio in altre parole la posizione in cui il ghiaccio incontra la Terra. In quanto parte della International Twites Glacier Collaboration il team Melt ha raccolto campioni e dati da questo fenomeno naturale unico considerato uno dei ghiacciai più importanti e pericolosi dell'Antartide un luogo unico che non molte persone vedono e che stupisce veramente non sappiamo ancora cosa possano significare le informazioni raccolte nella scienza moderna ma possiamo supporre che questa ricerca è inestimabile e può aiutarci a comprendere ulteriormente la storia di questo strano continente. Ingresso della grotta Alla fine dell'anno scorso gli utenti di Google Earth hanno attirato l'attenzione su un ingresso di grotta apparentemente non identificato su una remota isola antartica che si suppone sia apparso per la prima volta nel 2007. L'avvistamento è avvenuto apparentemente sull'isola Greenwich un'isola antartica meridionale appena a largo della costa della terraferma sei mesi dopo la scoperta la presunta porta della grotta è scomparsa da Google Earth i teorici della cospirazione sospettano che il governo o qualche altra entità stia nascondendo un oscuro segreto e che l'ingresso della grotta sia stato photoshoppato da Google Earth per mantenere una base nascosta da occhi indiscreti le accuse vanno dalla possibile esistenza di una base militare top secret alla prova di un'antica civiltà perduta. Questa sembra essere una tendenza comune con le scoperte antartiche ma cominciano ad avere un senso quando ci si pensa davvero la grotta mostrata su Google Earth era larga circa 249 piedi per 74 piedi di altezza il che per alcuni doomsday prepper significava che centinaia di migliaia di persone potevano stare dentro una speculazione più razionale suggerisce che un evento naturale come uno scivolo di neve o un cambiamento climatico può avere esposto o coperto la grotta non lo sappiamo con certezza soprattutto perché la grotta ora è scomparsa il gelato che canta gli scienziati hanno usato sensori sismici per raccogliere immagini per oltre due anni della piattaforma di ghiaccio rossa i loro risultati sono stati pubblicati alla fine del 2018 in uno studio che ha dimostrato che il ghiaccio del continente canta una frequenza costante di 5 Hz o 5 cicli al secondo questo rumore ronzante è creato dai venti locali ed è influenzato da fattori come la neve e il ghiaccio sulla superficie le tempeste che spostano le posizioni delle dune e lo scioglimento eccessivo questo secondo la rivista Live Science per gli scienziati è come soffiare in un flauto si tratta di un tono costante che non desiste alterna o diminuisce mai l'autore principale dello studio, Julian Chaput ha detto in una dichiarazione che alcune condizioni come forti tempeste ed eventi meteorologici di riscaldamento possono causare un sottile cambiamento nel ronzio sismico e ascoltando la canzone gli scienziati possono osservare e persino essere in grado di prevedere importanti cambiamenti sulla superficie per prevedere quando lo strato di ghiaccio crollerà Lago Profondo per quanto noioso possa sembrare il nome il Lago Profondo è un luogo molto speciale questo corpo d'acqua isolato nell'Antartide orientale ospita un ecosistema appena fertile ma sostenibile anche se il contenuto di sale nell'acqua è 10 volte superiore a quello dei più grandi oceani del mondo questo alto contenuto di sale fa sì che il Lago Profondo rimanga fluido anche se nel suo punto più freddo raggiunge temperature fino a meno 20 gradi centigradi un gruppo di scienziati che lo ha esaminato per 18 mesi nel 2013 ha dovuto prendere precauzioni speciali per evitare che i campioni d'acqua si congelassero mentre li ispezionavano quando è esposto all'aria aperta il liquido tende a congelare quasi istantaneamente quindi c'è voluta molta pazienza e attenzione per assicurarsi che i campioni non si rovinassero passeresti 18 mesi in questo luogo ostile la maggior parte degli animali non può nemmeno sopravvivere lì ma 4 specie microscopiche hanno trovato un modo per prosperare nelle condizioni salate e fredde di questo lago tre di loro sono archei, una forma di vita che originariamente si credeva fosse batterica conosciute come estremofili queste specie mostrano un'affascinante capacità di sopravvivere a temperature e condizioni che sono letali per quasi tutte le altre specie conosciute dall'uomo tuttavia queste specie non solo vivono ma prosperano in queste condizioni anche se è certamente un po' azzartato alcuni ricercatori si riferiscono a questi tipi di organismi quando cercano di descrivere come potrebbe essere la vita su altri pianeti una strana struttura nel 2012 una struttura lunga 14 miglia in Antartide è stata avvistata su Google Earth e ha causato confusione in molti dibattiti online è un mistero che ha scatenato la speculazione secondo cui la struttura potrebbe essere una stazione di ricerca governativa segreta un UFO sepolto o chissà cos'altro gli utenti di Google Earth l'hanno descritta come una struttura irregolare caratterizzata da un punto bianco luminoso che si suppone essere una sovrastruttura una delle più grandi della zona la struttura è così enorme che non può sfuggire quando si cerca su Google Earth infatti può essere vista anche dallo spazio esterno i segni a pennello sulla struttura sono visti dai teorici della cospirazione come prova solida che qualcuno stava apparentemente cercando di coprire qualcosa ma non lo sappiamo con certezza questi teorici dicono che se fossimo in grado di guardare oltre i segni a pennello potremmo essere in grado di vedere finalmente prove innegabili di vita aliena sulla Terra o perlomeno prove di una base governativa segreta cosa ne pensi di queste scoperte assurde? hai mai guardato l'Antartide su Google Earth? o l'hai visitato di persona? faccelo sapere nei commenti grazie per aver guardato assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video